L'allocco è un rapace notturno molto comune in Italia. Predatore prettamente forestale, popola anche i giardini e i parchi urbani, purché siano presenti degli alberi vetusti. È tra i rapaci notturni italiani uno dei più aggressivi a livello vocale. Ascoltando il verso dell'allocco, è possibile distinguere il canto del maschio da quello della femmina. Ora vi aiuto a distinguerli con questo tutorial. Ecco il maschio dell'allocco con un canto potente caratterizzato da versi simili ad ululati. Alla prossima Ed ora ascoltate la femmina con un canto più stridulo e acuto che ricorda un po' il canto della civetta. Trovate informazioni sui canti e il mio contatto diretto in descrizione. E se vi è piaciuto il video iscrivetevi a Gufotube, l'unico canale YouTube 100% gufi. Un gufo ciao a tutti e al prossimo video.